buongiorno a tutti ragazzi questa mattina volevo farvi finalmente il video di tutti i regali che mi avete mandato per il compleanno questo video l'avrei dovuto fare un po' prima visto che oggi è il 19 luglio è stato il 30 al mio compleanno e veramente siete state adorabili perché tantissime di voi mi hanno fatto un regalino è veramente a me questo ma mi avete fatto sciogliere veramente ve lo giuro e quindi partiamo subito perché presumo che sarà un video un pochino lunghino allora iniziamo in ordine di tempo quindi il giorno preciso del mio compleanno questo perché è passato il postino solamente che non mi ha trovato e quindi mi ha lasciato la cedolina e sono dovuta andarla a ritirare in posta e sono andata proprio il 30 giugno perché ci capitavo davanti praticamente perché sono andata a Zomarin vabbè non mi interessa insomma e il primo regalino è da parte di Carmen questa è la sua cartolina che mi ha mandato lei in realtà mi voleva mandare la cartolina solo che poi ha sentito che era il mio compleanno e molto carina mi ha mandato un regalino insomma aspettate un attimo mi metto a posto ok e quindi appunto questa è la sua bellissima città che comunque voglio andare a visitare e questo è il suo bigliettino allora premetto che io l'ho aperto in macchina mentre Mirko stava in farmacia e la gente mi passava vicino e mi prendeva per pazza praticamente adesso capirete il perché perché li devo come una pazza questo è il bigliettino carinissimo ci vede bene per il tuo compleanno devo dire che gli anni sono stati buoni con te con tutte le galline che chiacchierano dentro il bagno poi si apre per far ammazzare questo oggetto a me mi sono ammazzata e risate però chiudiamolo e sono le feste che ti rovinano con le due galline che chiacchierano all'aperitivo ma fatta ammazzata e risate vi giuro è stato proprio bellissimo un pensiero carinissimo poi dentro c'è scritta la dedica io mi tengo tutti insieme tutte le vostre letterine che mi mandate io li tengo tutti insieme per adesso la mettiamo qui e poi mi ha mandato tutte le altre cose e premetto carmen tesoro forse manca qualcosa perché non ci avevo pensato praticamente questo video già l'avevo fatto come ho scritto su facebook solo che poi visto che la mia batteria del computer ormai è partita devo stare per forza sempre attaccata alla corrente e niente è andata via la luce e si è cancellato tutto il video che avevo fatto e quindi niente potrebbe essere che manca qualche cosa perché avevo messo già le cose tutte a posto dentro dentro a tutto i componenti e quindi forse mi è scappato qualcosa comunque vi faccio vedere che cose mi hanno mandato ho mandato tutto questo bello pacchettone allora mi hanno mandato queste perline viola grandine ah notate che non vi faccio più venire mal de mare perché non c'è più l'autofocus inizio a migliorare allora questa è la creazione che mi ha mandato questi sono gli orecchini hanno questo motivo metallico ondulato se si può dire solo che a me succede sempre perché poi non me la metto perché ve la voglio far vedere solo che si intreccia che è una meraviglia aiuto va bene allora in questo momento non riesco a sbrugliarla la farò la riuscirò a sbrugliare ve lo giuro allora questa è la collana con questi elementi metallici con questo motivo intervallate poi da queste tre perlozze in fimo fatte da lei oddio mio eccoci qua e sono queste ci sono anche questi mezzi cristalli molto molto carina estiva con questi colori e queste appunto erano le sue creazioni quelle che ha fatto lei poi mi ha mandato due bustine di monachelle monachelle argento e monachelle oro e poi mi ha mandato tre tipi di chiusure che io sto amando sto amando completamente allora allora ci sono queste che sono i pesciolini carinissimi poi ci sono questi che sono i cuori guardate che so belle poi sono abbastanza grandine ma sono proprio belle 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 e poi queste qui guardate carine pure queste quei fiorellini le adoro le adoro e già veramente sono troppo troppo belle e e sono sicura che c'era qualcosa ah ecco 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 mi ha mandato queste collanone di credo siano madri perle se non sbaglio su questo colore verde fatte così un po' irregolari e ci dovrò fare dei bracciali con questo qui semplici così credo che li lascerò con del filo elastico li lascerò così in più no ok niente panico il bello della diretta ok e poi mi ha mandato quest'altra che è sempre le stesse pietre però tutte colorate vedete c'è il celeste c'è il verde c'è il rosa molto carino anche con questo ci farò le stesse cose magari ci farò gli orecchini intervallati molto molto carini veramente l'ho apprezzato di molto e questo è stato il regalo di Carmen il primo che ho ricevuto in ordine di tempo e veramente veramente sono stati regali apprezzatissimi che io veramente veramente ho apprezzato tantissimo quindi grazie Carmen un baciotto e il suo canale è vrnk e poi non mi ricordo perché c'è un numero dopo vi lascio tutti i canali delle persone che nominerò sotto al box informazioni poi in ordine di tempo l'ho ricevuto da da Luisa un altro tesorino mio eccolo qui il suo biglietto carino l'ha stampato anche il micino ha scritto buon compleanno è stata bellissima e poi tra l'altro io il suo non lo aspettavo e noi parliamo poi tutti i giorni è riuscita a tenersi come si dice il cecio in bocca e niente è arrivato questo pacchettino io non lo sapevo che era lei e insomma sono tornata a casa l'ho aperto e ho scoperto appunto che era lei e veramente sto conoscendo delle persone fantastiche sia qui tramite youtube che anche sul gruppo facebook le streghe creative e veramente sto conoscendo delle persone bellissime affettuosissime mi sto affezionando tanto tanto e appunto il suo regalo è stato questo aspettate te lo indosso è questo qui è un bellissimo shambhala che io non so poi l'accento dove va però io vogliamo così vedete con queste perle diametista bellissimo intervallato con queste ho finito con queste coppettine qui sono queste tre viola un po' più piccoli e queste due centrali questa che dà un po' sul bianco e violetto e questo un bianco diciamo bianco sempre sul verde bellissimo l'ho apprezzato tantissimo e lo indosso tanto questo e appunto questo è stato il bellissimo regalo di Luisa un bacione anche a te tesoro poi poi in ordine di tempo c'è stata c'è stata Kiki Caterina eccola qui il suo bigliettino che non vi leggo perché sono fra me e lei e vi faccio vedere subito che cosa mi ha dato allora io questo già l'avevo visto l'avevo visto perché l'ha regalato a Elisabetta Duff e me ne ero veramente innamorata perché è bellissimo bellissimo è proprio è troppo brava a fare queste cose e adesso vi faccio capire il perché insomma ovviamente è fatto tutto da lei qui con la foglia oro qui con questi questi dettagli con le microsfere qui è scritto Sara vedete però non voglio cioè spero che lo vedete bene allora qui si apre ogni pagina è una una scoperta e io adoro infatti queste cose qui si apre dove possiamo metterci una foto quello che ci vogliamo anche qui possiamo scriverci qualcosa mettere una foto qui è Parigi con la con la carta vedete qui c'è un altro anellino che si tira fuori ecco qui poi qui c'è un'altra un'altra fessura per mettere le foto o quello che si vuole insomma guardate i particolari come sono fatti bene e qui c'è un'altra 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 parte che si apre questo era tutto chiuso carino però per farlo vedere a mia sorella l'ho aperto e non c'avevo solamente una mano libera guardate che spettacolo cioè è meraviglioso aspettate che ve lo faccio vedere bene guardate quanto è bello qui si può mettere le foto quello che si vuole insomma poi nei particolari qui il sole qui c'è un merlettino veramente veramente adorabile veramente mi piace tantissimo poi qui c'è una foglia vera qui molto delicata poi c'è qui un bottone eccolo qui e queste applicazioni guardate poi che carina ci ha messo tutte strisce di carte diverse poi qui ci ha messo quest'altra carta bellissima qui sul verde e qui c'è il merlettino e poi l'ultima pagina tutto sul viola si il verde il verde dopo il viola il viola con le primule questa passamaneria molto carina e ho apprezzato veramente questo gesto è stata veramente un'idea carinissima e lo conservo gelosamente adesso che ho fatto il video incomincerò a metterci delle foto a scrivere insomma veramente veramente un regalo apprezzatissimo quindi grazie anche a te veramente dei regali apprezzatissimi ve lo giuro poi 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 arriviamo a un'altra tesora a Giulia e veramente anche Giulia è qualcosa di di esplosivo cioè è un amore è un amore veramente io l'adoro questo è il suo bigliettino questo l'ha fatto lei in questo cuoricino qua ve lo faccio vedere vi faccio vedere solamente il bigliettino naturalmente questo ha fatto anche lei tutto quanto questa qui l'ha incollata lei questa qui tutte le decorazioni l'ha fatte lei questa filigrana con lo svaroschino l'ha messo lei insomma e questo è il mio bigliettino e questo è la decorazione interna con questa piccola gru che mi ha fatto lei mi ha spiegato nel bigliettino che per tradizione quando si riceve al compleanno si può esprimere un desiderio veramente a me queste cose poi mi piacciono queste cose particolari veramente l'ho apprezzato tantissimo che poi non so raccontarvi l'odissea che ci abbiamo avuto con le poste per questo pacco che per me qualcuno dell'SDA solo voleva solo voleva piare questo pacco e quindi è stata l'odissea bla 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 non be' storia o quantà e adesso partiamo con tutte le cose che mi ha regalato Giulia però per me qua è collassata un po' videocamera scusate che c'è un cavalletto di fortuna che io ve lo farei guarda lo giuro ecco allora iniziamo con tutte le cose che mi ha regalato Giulia allora questa è una bottiglietta di vetro con il tappo in sughero che tra l'altro non ce l'avevo così con tutte queste sfere da 4 mm credo ma sono carinissime non so nemmeno se ce lo tolgo mettiamo ci mettiamo ci mettiamo tutte le cosine qui poi mi ha mandato questo questo questa bustina di strass con tutti i strass di diverse di diverse misure anche a lei face lo scrap quindi voleva contaminarmi anche a me se contaminarmi si può dire allora poi mi ha mandato tutte queste bustine di organza nero e bianco che anche di questo colore io non ce li avevo mi ha fatto questi orecchini qua che sono carinissimi ne faccio vedere solo uno e l'avevo sempre visti fare ma cioè in foto non l'avevo mai visti dal vivo e sono veramente veramente adorabili non sono blu come voi li vedete ma sono viola e con questo strassino nero e sono veramente veramente bellissimi ecco qua finalmente posso mettere nella mia trus vabbè ci siamo capiti poi mi ha mandato tantissimo fimo tantissimo fimo cioè questo fimo f è questo fimo soft che questo è il yellow transparent mi pare e questo è il cognac questi due colori qui poi mi ha mandato il prugna e il windsor blu questi qua questo prugna io ce l'avevo questo qui non l'ho mai avuto qua e non contenta me ne ha mandato un altro che è flash light e transparent orange questi due anche questo non ce l'ho mai avuto nemmeno questo perché è una specie di di carne cioè voi non lo vedete sì forse adesso sì non lo riesco tanto a identificare perché hotel flashlight char clare boh sedia chiara boh non so che colore è comunque mi ha mandato questi sei panettoni di fimo per me anche questi potevano bastare ma non si è fermata qui no allora mi ha mandato tutte queste altre cose mi ha mandato quattro di queste provette comodissime perché tra l'altro guardate come sono fatte c'hanno i buchini così uno senza capire tutta la provetta li può far uscire direttamente così e poi qui mi ha mandato una cifra di cose oddio ecco ho combinato tra cui queste chiusure qui che io già le avevo viste non mi ricordo in che sito e le avevo già tocchiate perché sono veramente carine facendo l'abisso dove sta la chiusura eccola che ce ne sono tre questa è la chiusura col grappolo 2 vedete e l'altra che ci sono l'altra chiusura che ci sono è questo cuoricino qui lavorato carinissimo anche questo mi sono innamorata perdutamente e questa è la chiusura finalmente adesso posso smistare tutti questi componenti mi posso mettere tutti insieme se la posso fare lo so che si dice che non si dovrebbe mettere a posto mentre uno fa il video review però cioè io questi devo mettere per forza a posto capitemi non ci posso avere monachelle coprinodi e chiusure ovunque anche perché poi non lo perdo poi mi ha mandato quest'altra bustina con dentro questo pacchettino di 11.0 delle toho perido trasparente perido 10 grammi poi questi chiodini con la punta a sferetta che io non avevo i coprinodi e ci sono anche pensa tu adesso io lo sto a vedere o ce ne è stato solo una c'è anche una farfallina poi c'è questo fantastico colore che è 11.0 sempre toho silver line green emerald sempre 10 grammi veramente bellissimo questo colore poi ci sono queste qui che sono metalliche non so sono delle 15 o delle 11 un po' non so definirle benissimo poi ci sono queste chiusure qui vedete con tutti i cancettini e appunto ci sono varie misure di sfere di legno e questa mezza sfera eccola qui bene poi mi ha regalato ah e questa come faccio fatela vedere che la indosso praticamente non posso farne a meno di indossarla ogni giorno aspetta che me la tolgo cioè inizialmente avevo visto questo sacchettino celeste leopardato e era di una gioielleria ho detto no non è impossibile sono andata a verlo e era possibile cioè mi ha fatto un regalo che per me è fantastico è importantissimo veramente guardate che bello è di argento 9,25 è appunto la mia iniziale con un angioletto seduto sopra è abbracciato e io non posso veramente farne più a meno di indossarla ormai non indosso più altre collane indosso spessissimo questa insomma è veramente bellissima io la ringrazio di cuore Giulia perché veramente è stato un regalo bellissimo e come ultimo ma non ultimo per importanza abbiamo tutta sta roba mi ha fatto questo cofanetto perché praticamente noi ne avevamo già parlato di questo cofanetto non proprio di questo però avevo visto che lei fa molti lavori sulle scatole e appunto mi ha voluto fare una scatola fatta dalle sononine veramente carinissima e adesso che appunto ho fatto il video posso riempirlo con le mie cosine perché non solo mi ha fatto questo bellissimo cofanetto nero con la mia iniziale sopra i piedini oro come l'iniziale ma ovviamente ci ha riempito di cose guardate qua che carino il particolare allora mi ha fatto questi chiodini con A9 che a me mancavano anche queste e mi ha mandato queste cane che sono due fette di mela e il fiorellino giallo poi mi ha mandato due segnalibri che l'altro dov'è? eccolo qui mi ha mandato due segnalibri che anche queste non avevo e ci voglio fare una cosina qui da appenderci e poi mi ha mandato di tutto e di più qui dentro cioè questa bellissima agata credo che sia guardate quanto è bella e vedete anche che ha viola però è un viola più acceso guardate che belle sfumature voi le vedete più spente poi mi ha mandato queste due madre perla che hanno dei riflessi veramente bellissimi oddio bellissimi veramente bellissimi sembrano molto delle murrine poi queste due madre perla vergini questo qua che è i fancy line praticamente sono le madre perla fancy line mi pare si chiamano io ce l'ho celeste no si celeste e viola invece questa è verde io non ce l'avevo bellissima anche verde ah questo cuore diametista veramente molto bello questi qui che praticamente ho scoperto adesso ci si fa una tecnica che a lente praticamente questi sono non mi ricordo come si chiama la lente art qualcosa poi c'è questa qui come quella di prima solo che è sul grigio poi ci sono delle chiusure che sono fatte così a cuoricino tutto lavorato ce ne sono tante ci sono delle delle base per anelli ci sono queste bellissime sono due però adesso non la trovo in questo momento quell'altro sono queste due agata viola bellissime ci sono tantissimi mezzi cristalli fatti in questo modo aiuto sempre sui toni del viola ci sono due di queste ci sono queste qui arancioni anche queste qui è sempre arancioni però anche sul bianco e appunto quello che vedete insomma ci sono anche delle coppettone queste qua che sono di legno e appunto io più aprivo il pacchetto e più rimanevo a bocca aperta perché veramente cioè un regalo più bello dell'altro mi avete fatto veramente tutte quante tutte quante e oddio non si è rotta e quindi adesso io rimetto tutto a posto qui ma adesso oggi sarà lo smistamento mettere tutto a posto tutto in ordine e anche Giulia insomma sono stati questi due regali io la ringrazio tantissimo sono stati tutti i regali non graditi qualcosa di più e io l'adoro veramente 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 mi avete fatto commuovere vi giuro non è una frase fatta non mi piacciono a me le frasi fatte però vi giuro mi avete fatto commuove e poi ultimo ultimo regalino che mi è arrivato mi è arrivato stamattina mi aveva detto lei che mi lo mandava ma io non pensavo che mi mandava tutta sta roba sei pazza alisabetta cioè vi faccio vedere il mio perché non mi interessa se si vede il nome cioè guardate quanto è gigante è un gigante è un paccolone non è un pacco è un super paccolone e adesso vi faccio vedere tutto quello che mi ha mandato e faccio veloce perché veramente se no non si sa non mi sorporterete più iniziamo subito ah vi faccio vedere questo qua il bigliettino solo da fuori però lo faccio vedere perché quello è mio sabbetta Sara però guardate che carino come l'ha decorato sui bordi proprio carino allora iniziamo subito queste cappettine scusate se sarà un po' è veloce però adesso vi raccorgerete la roba queste perle così sfaccettate credo che siano mezzi cristalli questi mezzi cristalli qui bronzo che dovrebbero essere da 3 mm anche queste qui sfaccettate queste non so se sono da 5 da 6 forse da 6 questo viola qui questi distanziatori che sembrano dei fiorellini il cordino nero il cordino cerato nero questa chiusura che io l'avevo ad occhiata da non si sa quanto tempo ma questa la devo far vedere da vicino perché è meravigliosa meravigliosa veramente guardate che bella aspetta eh che aumento il focus così forse ecco vedete questo si vede un po' meglio e poi avevo paura che era troppo leggera e invece ci si deve mettere veramente la forza per aprirla quindi i derò un bel bracciale apposta per questa chiusura poi queste perline qui che saranno da 4 mm sul blu veramente carinissime queste qui che Elisabetta help me o chi per lei è help me se lo sapete sono bellissime bellissime veramente sono di questo blu meraviglioso apriamole perché se no non gli danno giustizia guardate quanto sono belle a me mi dispiace pure usarle queste cioè hanno dentro tipo un agglomerato di aspettate ecco hanno dentro tipo un agglomerato di madreperla vedete io proprio non so che tipo di perle siano aiutatemi poi queste altre perle di altro colore molto soft diciamo poi queste due chiusure si chiusure due basi per anelli che una è quadrata che è quadrata tra l'altro tra l'altro non l'avevo e un'altra che è quadrata a cerchio poi questi due dischi in petra dura molto belli questi divisori questa perlozza qui ovale marroncina e bianca queste due madreperla vergini queste due filigrane per farci gli orecchini e anche questo ci devo ideare qualcosa questi tre anelloni questo saranno da nascondere sotto questi sono altri divisori però sul bronzo poi facciamo un'altra pescata perché io li pesco li metto qui ah vi faccio vedere subito la sua creazione che mi ha mandato veramente bella una catenina di queste qua che rimangono rigide cioè non tantissimo rigide però insomma abbastanza e questo è un cabochon fatto da lei guardate che bello veramente bello poi queste perle qui bianche io bianche proprio così non ce l'avevo completamente bianche queste perle di vetro che lei ha decorato con credo degli smalti non lo so ma vengono veramente belle guardate che bello no no credo che queste siano proprio così guardate che bella questa celeste veramente belle poi ha fatto dei cabochon per me guardate questo che bello guardate che sfumature veramente brava qua ce n'è un altro veramente bello poi queste perline su celeste saranno da 6 mm credo le pietre del sole tutte sbrillicicose queste agate che sono meravigliose cioè guardate che so belle so certe bianche certe nere so proprio belle questi mezzi cristalli questi altri separatori no separatori non si può sentire divisori forse queste perline similopale carino questo qui finalmente c'è il mio primo bracciale di cauccio per fare i pandora i lacettini per fare le catenelle per gli occhiali questo oddio sta cominciando ad ammocchiare la roba questo portagliavi questo moschettone grande per il portagliavi coppettine sfere che sono tra un marrone sì un marroncino direi marrone scuro queste piccole non so se si possono definire filigrane comunque molto carine questi cipollotti qui su questo bellissimo blu altre agate su questo colore ambra bianco e una catenina a bronzo oddio mi non finisco più ed adoro queste perline qui sempre sfaccettate questa base di legno rosa tutta lavorata guardate che carina e guardate che bambandato sì sono loro i soft touch anche se io ho i soft touch devo ideare qualcosa anche perché con questo ho già pensato cosa farci perché credo che sia dell'altezza giusta quindi prossimamente sui nostri schermi poi questo è un altro cabochon fatto da lei mille sfumature cioè mille striature viola arancione veramente brava questi altri mezzi cristalli che all'interno hanno l'anima oro tutte queste chiavi carine poi queste chiavi sono particolari perché hanno i buchi per metterci gli strass però ancora gli strass non ci sono tutte queste altre chiavettine poi questi due merlettini che non sono stati ancora induriti quindi posso provare subito a farci gli orecchini che mi ha dato ispirazione Giulia aiuto poi questa non so se sia sempre un'agata sapete che non lo so però comunque sia pitratura è su questo marroncino poi mi ha mandato questo filo che è a rame è di un colore bellissimo e adesso voglio provare perché sto aspettando l'ordine da hobby perline che ho fatto insieme a Lullina abbiamo fatto un ordine cumulativo approfittando degli sconti e ho preso gli artistic wire e tra l'altro uno è proprio di questo colore wow pure bello tostarello quindi posso incominciare a farci qualcosa madonna mia oggi 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 c'è il mail perfetto micro c'è il mail grazie 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 Isabetta poi questi piccoli separatori qua queste perline lavorate questi cipollotti neri qui ci sono tantissimi charms ma io come faccio a farveli vedere guardate qua guardate questa cos'è è una micro sedia poi ci sono le melucce la rana è purtroppo rigirata guardate che carina questa farfalla il gufo guardate il gufo Valentina guarda il gufo io ce l'ho tu no poi c'è il cavalluccio cavalluccio la pera il fiorellino ma veramente guarda io non so come ringraziare poi tutti questi anelloni qui e questa filigrana qui di questa farfalla con dove vai dove vai a nasconderti vieni qui questi altri cipollotti sul celeste queste perline qui credo siano da 3 mm queste perché sono piccolissime veramente poi questi qui carini carini anche questi qua molto altri fiorellini che ci posso fare la prova sul grigio oddio non sono più nella videocamera poi questi fiorellini che non so se siano vetro credo siano vetro che carini guardate e poi l'ultima presa da dentro la busta cioè io e me mi hanno mandato non dovevi veramente veramente Elisabetta sei stata un amore veramente questi due distanziatori cioè mega distanziatori diciamo come vi posso dire vabbè non si sa capite poi questa cadena guardate che particolare guardate che bella tutta lavorata proprio bellissima queste due pandora una mini mini questa qui e questa sul nero con il strass no non è nero è verde è verde voi la vedete nero ma è verde veramente bella poi questi altri cerchi inizia a diventare dislessica tutte queste cose mi avete regalato poi queste chiusure guardate questo quanto è bello non so io appena l'ho visto mi ha dato questa è la chiusura è la T mi ha dato tipo di la storia infinita quando doveva passare in mezzo al cerchio non mi ricordo tanto bene come si chiamava poi questi qua che sono tutti i phone straps questa qui che è una madre perla ma vedete cioè guardate che riflessi che c'ha guardate questa ma rende conto cioè io non dovrò fare più spesa per non so quanto tempo questi queste compittine qui questi i fiorellini di madre perla carissimi questi veramente belli e poi queste qui che sono sembrano no sembrano sono delle alucce e sono sia oro che argento ok io ho finito cioè veramente io sono senza parole senza parole veramente e io vi ringrazio tutte 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 dalla prima all'ultima grazie 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 Luisa grazie Caterina grazie Giulia e grazie Elisabetta cioè questa qua veramente è stato è stato sono stati dei regali bellissimi 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 non perché magari chi ha fatto di più e chi ha fatto di meno sono stati graditi di più o di meno perché tutte 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 se le state gradite all'ennesima potenza mi avete fatto veramente commuovere adesso non sentite che insomma sono molto conosce l'avance però veramente mi avete fatto commuovere mi avete fatto veramente capire che anche attraverso il computer si trovano delle persone bellissime e chi dice che non è vero e che sono solo delle poracce che fanno queste cose posso assicurare che non ci capiscono proprio niente e ho po' di solamente chi non l'ha provato e chi evidentemente non lo proverà mai io veramente non so come altro ringraziarvi io so solamente che vi mando un bacio grande con una casa adesso chiudo sto video perché non lo so quant'è io ho paura a vederlo quant'è perché dalla webcam non me lo fa vedere e quindi io vi mando un baciotto e ci vediamo alla prossima che voglio fare dei tutorial ho già pensato a due tutorial da farvi insomma due o tre adesso vediamo quindi io vi mando un baciotto e mando un bacio a tutto il mio gruppo le strighe creative se mi volete raggiungere vi lascio sotto al box informazioni il link per raggiungerci anche lì e quindi niente un baciotto ciao ragazzi